Buongiorno, oggi parleremo di Russia e della tormentata relazione che intrattene con l'Unione Europea. Farò prima una panorama storica delle relazioni, poi mi concentrerò sulla situazione attuale e poi mi concentrerò sulla relazione che la Russia ha con la Cina. La Russia e l'Europa condividono cinque secoli di storia comune fatta di vincoli politici, economici e culturali. Dopo il XVIII secolo in particolare vi è stata una intensificazione delle relazioni fatte di vincoli dinastici, di scambi politici, culturali ed economici. Per l'intelligenza russa, durante il periodo imperiale, l'Europa era molto più di un luogo geografico, era un ideale, quasi uno standard di civilizzazione. È per questo che quando lo zar Pietro il Grande, Pietro I, fondò San Pietroburgo nel 1703, chiamò architetti, soprattutto francesi ed italiani, per aiutarlo a costruire quella che era non solo una città, ma quasi un esperimento di ingegneria culturale e sociologica, visto che lo zar intendeva europeizzare, quindi trasformare radicalmente, gli uomini e le donne russi. D'altronde nel XIX secolo, gran parte della nobiltà russa parlava meglio il francese piuttosto che il russo, quindi questo è anche un segnale di quanto l'Europa fosse un ideale. Tuttavia, allo stesso tempo, molti russi provavano una sorta di complesso di inferiorità nei confronti dell'Europa e accusavano l'Europa di russofobia. Scriveva Dostoevsky nel 1876 nel diario di uno scrittore Effettivamente, nonostante i legami culturali, economici e politici, l'Europa ha sempre guardato con sospetto alle aspirazioni territoriali e politiche dell'impero russo prima e dell'Unione Sovietica poi. Nel 1918, dopo il devastante primo conflitto mondiale, le potenze europee si trovarono a fronteggiare un'altra minaccia dall'est, la Russia sovietica. A quel tempo, gli Stati europei avevano due possibilità di fronteggiare questa minaccia basate su due approcci teoretici. Uno era quello del federalismo europeo, secondo cui, per affrontare una minaccia, in questo caso la Russia sovietica, l'Europa avrebbe dovuto unirsi sempre di più per fornire una risposta coesa e dura a questa minaccia. Un'altra possibile via per trattare con la Russia sovietica si basava, invece, sull'approccio teoretico del funzionalismo internazionale, secondo cui era meglio coinvolgere la potenza minacciosa, quindi la Russia sovietica, attraverso un'intensificazione degli scambi economici, politici e commerciali, nella speranza che tale potenza cambiasse il proprio comportamento come spillover, come effetto di tutti questi scambi.